Ciao a tutti ragazzi, sono Alfi112 e quest'oggi farò un altro tutorial su come completare la sfida di Wolverine della settimana 5. Allora sto parlando di questa sfida, individua un camion trasporti Trask. Si trova lì dove c'è la faccina di Wolverine. Ovviamente anche per questa missione vi consiglio la modalità singolo. Tutto pronto, si parte! Allora come prima cosa bisogna atterrare in questo punto qua nella cella C1 e poi da qui dobbiamo cercare di individuare questo camion. Non sarà facile ma non penso che sia così complicato. Noi dall'alto col deltaplano cercheremo di individuarlo per svolgere subito questa missione al primo colpo. Via! Allora cerchiamo di vedere già dall'alto dove potrebbe essere questo camion. no... no... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per completare la sfida di Wolverine dovete portarvi in questo punto qua della mappa. Qua troverete il camion C1. Quindi memorizzate questo punto e tutto a posto. Noi siamo qui, il nostro nemico è sotto. Stanno cercando di distruggerlo. Perché distruggerlo poi? E non dare la possibilità anche agli altri? E scappo via! Con questa missione abbiamo sbloccato il deltaplano di Wolverine. Non sto più nella pelle ragazzi perché la prossima settimana finalmente potremmo tutti sbloccare il grandissimo Wolverine che tra l'altro è uno dei miei personaggi preferiti. Spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto. Mi raccomando, riempite di like questo video, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al mio canale YouTube attivando la campanellina. Grazie, noi ci vedremo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!